Fabio Andriola, che è giornalista, curatore e produttore di documentari televisivi, ma interviene in questa sede come responsabile di Stori in Rete. Prego. Grazie. Divago un po' da Napoleone, con rammarico di non essere un esperto, ma sperando di applicare quello di cui mi sono convinto strada facendo, applicarlo anche sul campo, magari su un bel documentario su Napoleone, o la controstoria di Waterloo, magari. Io voglio occupare un po' di divulgazione storica, che è una cosa un po' strana, anche perché è una cosa di cui spesso si parla, ma poi della quale pochi, mi sembra, abbiano le idee chiare. Non penso di avercele particolarmente io, ma ho provato, se non altro, a metterle in fila, ed è quello che vi sottoporrò ora. Partendo da un'idea generale di cosa può essere una definizione della divulgazione. La divulgazione storica ha una grossissima responsabilità, perché è il mezzo con la quale arriva al grande pubblico quello che gli storici di professione acquisiscono nel corso delle loro ricerche. E, visto che la storia non è una cosa chiusa in se stessa, ma serve, dovrebbe essere, come si diceva una volta almeno, maestra di vita, è importante che le acquisizioni arrivino al grande pubblico. La domanda è, ci arrivano davvero le acquisizioni degli storici al grande pubblico? La mia risposta è tendenzialmente negativa, perché la mia impressione principale è che, non solo in Italia, ma, particolarmente in Italia, la divulgazione abbia una sindrome di pigrizia congenita che la porta a snaturare non solo quello che dovrebbe essere la sua ragione sociale, ma proprio quello che dovrebbe essere la storia in generale. Cioè, andare avanti. Tendenzialmente la divulgazione si rivela molto spesso, non sempre, ma molto spesso, su qualunque media poi si manifesti, tende alla circolarità, tende a ripetere in maniera quasi ossessiva se stessa. Senza scatenare grandi riferimenti storici, tempo fa Alessi, che già a Tucidide, quindi moltissimi secoli fa, aveva distinto la differenza tra una causa tattica e una causa strategica nella descrizione di un fatto storico. Per cui, se Giacomo mi dà un cazzotto e io non reagisco, reagisco, qualcuno, il divulgatore, oggi tende a raccontare che Giacomo mi ha dato un cazzotto. La divulgazione, secondo me, che poi è un processo storico, dovrebbe vedere perché Giacomo mi ha dato un cazzotto, cosa è successo prima tra di noi, cosa ho fatto dopo io. Se voi andate a vedere tendenzialmente quello che si vede nei documentari di storia, tendenzialmente sulle riviste, andate a leggere i siti, raramente troverete questa cosa che dovrebbe essere abbastanza naturale. Cioè, perché, oltre a incuriosire, io non tendo a informare? E perché, di fatto, la divulgazione diventa una specie di puntello dello status quo dell'acquisizione storica? La cosa è ancora più grave perché siamo in una società liquida. Internet, soprattutto, ha reso tutto incredibilmente veloce. E quindi il mantenimento di una posizione consolidata è sempre più difficile perché, appunto, Internet, con tutti i meccanismi che è in grado di attivare, è un motore quasi automatico. Eppure, sembra che, quando si fa divulgazione, molto spesso, Internet come strumento di approfondimento o di informazione non esista. Per cui ci ritroviamo a vedere molti che usano Internet come media, quindi come strumento di diffusione, ma non approfittano di Internet come strumento di approfondimento e di integrazione delle risorse. Storia in rete è nata proprio da questa considerazione. Cioè, Internet toglie ogni giustificazione. Ancora a metà degli anni 90, potevo dire che, magari non l'ho letto, ma non so che in America hanno pubblicato quel tal libro che riscrive i contorni dell'attentato a Lincoln, per fare una cosa molto semplice. Oggi, posso anche non averlo letto, ma sicuramente in pochi minuti sono in grado di arrivare a capire cosa sostiene quel libro e considerare una tesi di fondo in relazione a quello che magari devo scrivere o voglio raccontare con un documentario. Quindi, Internet toglie ogni scusa al giorno d'oggi. Dovrebbe togliere ogni scusa. Di fatto, come vedrete, non è così. Io adesso vi racconto brevissimamente, rifugendo dai tentativi di autocelebrazione, anche perché quello di cui vi voglio parlare oggi è quello di un incubatore, di un esperimento che molti indici ci fanno pensare a me e ad Alessandra Gigante, che condivide questa avventura, fanno pensare, non dico a una sconfitta definitiva, prossima, ma a una battaglia molto lunga e quasi di posizione, con un sistema che, nonostante Internet, è pensato ed è strutturato per mantenere ancora una volta lo statu quo. Tendo a precisare che qui non si parla di revisionismo in chiave di lettura, diciamo, politica della storia o cosa del genere. Si parla di un metodo che può essere tranquillamente applicato a qualunque periodo storico ed è una cosa che deve, diciamo, portarci a pretendere quella che si chiama la famosa informazione di qualità, che non deve riguardare solo ITG, ma dovrebbe riguardare qualunque forma di informazione e di, come si dice, analisi anche giornalistica di una notizia. Storia Rete è una cosa un po' strana, perché, per quanto io vaghi su Internet, non sono ancora riuscito a trovare una cosa del genere. Può essere un bene, per certi versi, o una conferma della follia che ci ha portato a portare avanti questa iniziativa. Ed è un tentativo di affrontare in maniera multimediale a 360 gradi la divulgazione della storia. Quindi c'è un sito Internet, c'è un sito Internet, diciamo, che è un aggregatore dove raccogliamo notizie sia dall'Italia che dall'estero, divise per periodo storico, e che riproponiamo ai navigatori del web. Storia Rete è anche una casa di produzione dei documentari per la televisione, che abbiamo poi messo in rete in un sito ad hoc, perché la nuova frontiera può essere forse quella dello streaming, quindi la fruizione non sta per morire la televisione, ma probabilmente non sta molto bene. E comunque l'audiovisivo sta cercando, in maniera automatica, quasi, di trovare nuovi sbocchi e nuovi punti di contatto con il grande pubblico. Quindi abbiamo questo Storia Doc, che è il sito dove noi mandiamo i nostri documentari in streaming, c'è una libreria di storia online per la commercializzazione dei libri, una cosa ancora piccola, l'ultima uscita, però serve a chiudere un cerchio che è composto poi dalla presenza su tutti i social network principali, Twitter, Facebook, Dailymotion, YouTube, Vimeo e compagnia bella. Tutto questo per dire che c'è una presenza, diciamo, che in nuce vorrebbe essere strutturata, un piccolo sistema, diciamo, multimediale, che dovrebbe, in qualche maniera, consentirci di proporre un sistema di divulgazione un po' più articolato e un po' più strutturato. Come dicevo prima, la cosa che lascia assolutamente perplesso è che in realtà infinitamente più grandi e strutturate di noi non abbiano mai pensato di poter realizzare quello che, grazie a Internet, è possibile oggi realizzare con investimenti relativamente contenuti. Investimenti che noi abbiamo fatto, diciamo, sulla nostra pelle, ma che altre realtà avrebbero potuto fare ben prima di noi e anche meglio di noi. Ma il problema poi ritorna sempre a capo. Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa se non ha un'idea di che cosa vuole fare? Perché l'idea può essere semplicemente imprenditoriale, può essere un'idea editoriale, nel senso che io voglio raccontare, come capita per esempio in Francia, dove la stampa specializzata di storia si autosettorializza ulteriormente, per cui ci sono giornali che parlano solo della guerra d'Algeria, solo del Primo Impero, solo del Secondo Impero, solo della storia romana e così via. C'è anche chi vuole ritagliarsi uno spazio, come abbiamo pensato di fare noi, dandoci una linea editoriale che filosoficamente potremmo definire particolare, diciamo, nazionale. L'Italia, che è una superpotenza culturale, è di fatto un nano da un punto di vista della produzione culturale multimediale. Questo porta a una serie di ricadute negative, la principale delle quali, a nostro giudizio, è quella della difficoltà di riscoprire fatti e uomini della storia nazionale che, dimenticati da decenni, e che potrebbero aiutare a modificare, se non in parte, l'autorepresentazione che noi stessi, come italiani, tendiamo a darci. È un'autorepresentazione che negli ultimi 60-70 anni complice una sconfitta pesante nell'ultima guerra, con modalità abbastanza, diciamo, ingloriose per molti versi. È stata poi fossilizzata con un prevalere di una forma di autorepresentazione di cui il cinema è, chiaramente, il principale veicolo, per cui siamo passati comunque da esempi di, diciamo, di cialtroneria geniale alla Totò o Alberto Sordi, ai Cine in Panettoni, ma c'è una linea di costanza, di una autorappresentazione, di una mediocrità, così mi dire, consolidata, che, per certi versi, invece, potrebbe essere, diciamo, contrastata, se non altro, integrata, da una serie di esempi di personaggi storici, anche importanti, e anche, insomma, non solo degli ultimi decenni o dell'ultimo secolo, ma anche andando indietro, che meriterebbe, invece, un recupero. Noi cerchiamo di fare anche questo, sia con i documentari che con la rivista, proprio per mostrare che è possibile un'altra via. Un'altra via che, con una certa disperazione, diciamo, ci siamo accorti di percorrere praticamente da soli, e qui vi faccio un mini, mini, mini panorama di quella che è la situazione della divulgazione storica in Italia. Diciamo, Storia in Rete è un piccolo giornale che ha una sua storia, ormai consolidata, perché andiamo verso i dieci anni di vita, e, chiaramente, in Edicola c'è ben altro come potenza di fuoco. Ci sono riviste che hanno un taglio, diciamo, di storia generalistica molto diffuse. Non sto a farvi nomi, ma vi ricordo semplicemente che nell'ordine di grandezza le prime tre riviste italiane di storia come diffusione sono, la prima è una, frutto di una joint venture italo-tedesca, dove si, praticamente, si è deciso di fotocopiare un modello divulgativo molto pop che viene declinato dalla scienza alla storia alla vita quotidiana, c'è un noto storico romano che ci ha costruito degli interi spettacoli sulle notizie che venivano prese, cosa fare se vi aggredisce un coccodrillo, ecco, cose abituate che capitano a chiunque, queste cose applicate come metodo alla divulgazione storica. Un altro importante giornale è semplicemente l'edizione italiana di un giornale spagnolo prodotto dal National Geographic che è una realtà imprenditoriale enorme e culturale e americana, per cui ogni mese escono fascicoli dove almeno la metà se non di più sono contributi di giornalisti e storici spagnoli. Nessun problema né con i tedeschi né con gli spagnoli ma che in Italia non ci sia modo di mettere insieme quelle dieci firme che possono aiutare a riempire un fascicolo a me è risultato sempre particolarmente curioso. La terza rivista l'unica che vi cito ma perché non ha avuto neanche la voglia di cambiare nome e ragione sociale per cui loro si chiamano proprio BBC History Magazine Italia e sono l'edizione italiana di una buona rivista di divulgazione inglese da cui loro anche loro ogni mese mutuano almeno metà dei contributi che pubblicano. Anche sul web il risultato è abbastanza sconfortante perché per queste riviste soprattutto quelle italiane devo dire non italiane prevale un concetto molto vecchio la presenza di queste riviste è una presenza da sito vetrina cioè un sito che vi dice andate in edicola che è uscito il nuovo numero della rivista X poco più basterebbe appunto allargare un attimo l'occhio per vedere come molti siti in America storia rete cerca di farlo nel suo piccolo ma ci sono ben altri esempi di disposizione la scusa della rivista diventa l'occasione per aggiungere informazioni che non trovano posto sul cartaceo e per cui internet diventa un altro punto d'incontro che integra il cartaceo ma con la sua indipendenza e con la sua capacità di approfondimento di temi questo non viene sostanzialmente fatto da nessuna di queste riviste italiane anche se cito History Today per esempio in Inghilterra o sempre BBC History Magazine sono siti che in inglese invece danno un sacco di valore aggiunto la cosa invece ancora più interessante e preoccupante è che il tema della divulgazione tradizionalmente trascurato dall'accademia italiana trova sempre all'estero perché poi gli italiani hanno questa forma stranissima di provincialismo ammantato di esterofilia certe cose le dobbiamo copiare a tutti i costi poi quando ci sono le cose buone da copiare chissà perché non se le accorge mai nessuno in questo l'accademia italiana è particolarmente responsabile perché negli Stati Uniti esiste una bellissima forse per me uno dei più belli al mondo di siti di divulgazione storica parlo di divulgazione nel senso che è un sito articolatissimo dove uno può trovare dalle breaking news al saggio alla recensione storiografica al racconto della al racconto di una diatriba storica per esempio questi ed è un sito gestito da una università americana di Seattle la George Mason Mason University di Seattle che ha questo sito che si chiama hnn.us ed è un sito che è una autentica miniera un sito fatto anche con una sensibilità diciamo giornalistica che dovrebbe aiutare la divulgazione tanto per fare un esempio stupido anni fa avevano creato una rubrica che si chiamava Hitler Watch cioè monitoravano tutti i casi in cui nel mondo qualcuno paragonava un avversario politico o una cosa a Hitler e allora facevano vedere questa questa cosa per esempio per noi invece sottolinerete ha ispirato un'altra cosa che un'altra rubrichetta che pubblichiamo fin dal primo numero che si chiama c'è una bomba in città e cioè ogni numero noi indichiamo un caso in cui la storia diciamo degli ultimi decenni incide sul quotidiano di tutti noi perché spesso finisce nelle brevi della cronaca locale ma praticamente ogni settimana in Italia vengono evacuate in alcune zone migliaia e migliaia di persone per mezza giornata vengono chiuse autostrade bloccate linee ferroviarie perché in un cantiere si ritrova periodicamente qualche bomba qualche ordigno della prima e soprattutto chiaramente della seconda guerra mondiale questo per dare l'idea come la divulgazione anche può essere sempre un tentativo di collegare il passato al presente il presente al passato anche attraverso episodi apparentemente marginali o polemici ma che possono far capire come molte nostre azioni in qualche maniera sono state condizionate da eventi più o meno lontani noi ci chiamiamo storie in rete per vari motivi perché chiaramente nasciamo dal web cerchiamo di sfruttare al massimo le potenziali divulgative del web ma anche perché storie in rete ci piacerebbe fare rete e abbiamo cercato e cerchiamo sempre di fare rete lo facciamo anche a livello produttivo scoprendo gli immensi giacimenti di passione di cultura e di professionalità che riserva l'Italia tutta penso ai gruppi di ricostruzione storica comunque agli attori a persone che come abbiamo visto ieri gestiscono in questa maniera appassionata strutture museali o vecchi castelli antiche residenze che possono essere delle buone location per ricostruire il più fedelmente possibile quello che era l'atmosfera di un'epoca passata fare rete per noi vorrei dire anche trovare il modo di veicolare i nostri prodotti i nostri prodotti i nostri i nostri documentari e soprattutto il più possibile senza stare onestamente dobbiamo dire senza stare a pensare a un ritorno economico significativo per cui nel tempo internet è un ottimo acceleratore anche di conoscenze più o meno virtuali ci siamo ritrovati molto spesso a ricevere richieste di scuole o di singoli professori che magari chiedevano per i loro studenti per fare quella lezione vorremmo fare Galileo perché noi siamo una superpotenza diciamo culturale e nessuno qui in Italia si è mai messo in testa di fare un documentario sulla vita di Galileo Galilei c'è capitato a noi perché grazie alla sette abbiamo potuto fare questo la stessa cosa vale per personaggi di prima grandezza come Machiavelli anticipo qui una cosa che volevo dire dopo ma comunque è la stessa cosa il prodotto multimediale che inizialmente viene sempre pensato esclusivamente o quasi per la televisione invece più avanti andiamo più si presta a una molteplicità il professor Barlozzetti prima diceva che il soldatino è come il maiale non si butta via niente la stessa cosa vale per l'audiovisivo preso integralmente o a spezzoni ha una elasticità e una fruibilità interessante sia per installazioni museali la settimana prossima apre una mostra sui capitani di ventura a Perugia che sarà integrata anche da due nostri documentari che sono stati richiesti per arricchire il percorso espositivo il grande referente per chi fa divulgazione dovrebbe essere la scuola e noi ci siamo proposti l'idea di avvicinare il mondo della scuola che a sua volta in maniera episodica ci aveva avvicinato ci ha avvicinato nel corso del tempo e qui avviandomi a chiusura vi racconterò una serie di aneddoti che ho pensato di mettere in fila anche per dimostrare alle signore del museo qui dell'Elba che non sono sole quando si scontrano con certe rigidità e certe come si dice certe cecità perché fare rete storia rete vuol dire fare sistema in qualche maniera e sono qui a raccontarvi come in otto nove anni di vita non ci siamo ancora sostanzialmente riusciti nonostante noi si offra in quasi maniera ingenuamente e follemente gratuita dei prodotti che fate delle schifezze è ovvio che non le vuole nessuno però le stesse schifezze che hanno comprato negli Stati Uniti hanno comprato in Polonia hanno mandato in onda più volte sulla 7 o su altre reti chissà perché non dovrebbero andare bene anche nelle situazioni insomma abbiamo creato questo sito che si chiama storia doc per il documentario di storia in streaming essendo dei pescecani della finanza ci siamo riproposti dei ritorni economici folli per cui praticamente uno può andare sul sito e vedere in streaming per la fantastica cifra di 2 euro e mezzo un documentario di 50 minuti lo può vedere tutte le volte che vuole per due giorni ce ne andiamo contro adesso dovremmo abbassare ulteriormente i prezzi perché e quando abbiamo messo insieme meno di un anno fa abbiamo messo su questa picca operazione storia doc ho cominciato a comunicare in maniera non solo a qualche amico giornalista o alla stampa ma anche ad alcune istituzioni ve lo segnalare ragazzi guardate che c'è questa cosa forse vi può essere utile il primo ente a cui ho pensato di rivolgermi e l'Indire è un ente pubblico agganciato al MIUR quindi al Ministero dell'Istituzione e l'Indire sta per Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa cioè cercano di acquisire materiali per fornire materiali possibilmente didattico multimediali ai docenti ormai l'Italia per quanto sempre fa analino di coda in 200.000 classifiche è una realtà che comunque viaggia verso le 100.000 lavagne elettroniche nelle nostre scuole tra c'è d'altro in Lombardia si sta progettando di dotare tutti i ragazzi di tablet invece di fargli portare degli zainetti con chili di libri le maggiori case editrici stanno già predisponendo hanno predisposto libri multimediali insomma si sta muovendo in quella direzione l'indire ci sembrava il primo interlocutore per sottoporre questa cosa qui non è che gli abbiamo chiesto soldi gli abbiamo detto guardate noi esistiamo forse vi può interessare forse si può trovare il modo di collaborare la risposta di una funzionaria di cui taccio il nome perché per carità di patria cito testualmente nel salutarvi rinnovo l'interesse e i complimenti per il progetto ma anche l'invito a riflettere su possibili forme di collaborazione per il futuro ovviamente fuori da qualsiasi logica di mercato due euro a documentario questo è e questo gli impedisce per esempio di metterci tre link segnalati loro non possono fare questo perché c'è un ritorno economico per quanto per quanto marginale è ovvio che loro questo discorso dico alla zanichelli o rcs scuola piuttosto che alla lescer o altre case editrici non lo fanno e credo anche che quando vanno a comprare il pane paghino il fornaio invece in questo caso quando si tratta di divulgazione storica si parte dall'assunto che deve essere gratuita chi la debba produrre con quali costi e con quale fatica evidentemente è un problema che all'indire non ci si pone secondo tentativo leggo dai giornali che l'italia l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo con dei gap tra il primo il secondo il terzo posto incredibili però insomma sono notizie ancora di quest'estate che confermavano 700.000 studenti di italiano nel mondo quindi quarta lingua studiata allora dico ho pensato visto che buona non tutti però molti di questi corsi fanno capo agli istituti italiani di cultura nel mondo gli istituti italiani nel mondo sono 89 se mi metto lì di buzzobuolo in qualche giorno riesco a contattare tutti i responsabili dei vari e ho scritto 89 email a 89 istituti di cultura scusa 89 istituti di cultura nel mondo da Seul a Los Angeles a Tirana a San Pietro Buc e Compagnia Bella su 89 email mandate spesso mandate al direttore per conoscenza all'assistente all'ufficio stampa e Compagnia Bella su 89 messaggi inviati ci hanno risposto in 10 in questi 10 3 se la sono cavata dicendo complimenti per l'iniziativa grazie un altro ci ha chiesto ma noi qui avevamo dei prigionieri di guerra della seconda guerra mondiale che hanno costruito una bellissima cappella perché non venite a fare un documentario qua benissimo un altro dico io l'ho segnato per le scuole di italiano in 2 o 3 dico vabbè ma se non sono in inglese io non ci faccio niente dico ma forse niente un altro geniale bellissimo detto ma quando fate Machiavelli che mi serve perché ho una mostra su Machiavelli e l'ultimo poveretti e lo dico perché è a Bruxelles dico bella iniziativa venite e facciamo una presentazione a Bruxelles collegandoci con le scuole col Parlamento europeo tempo 2-3 settimane perché portiamo anche un po' di sfiga lo dico tempo un po' di sfiga e sono uscite le polemiche tra la titolare dell'Istituto Italiano di Cultura e il Ministero per dei problemi tipo amministrativo e cose per cui questa signora che probabilmente ha ragione si riteneva anche offesa da alcuni appunti che arrivavano da Roma si è dimessa e quindi l'Istituto che doveva organizzare questa presentazione di storia doc a livello europeo è rimasto senza direttore e quindi si è fermato tutto non contento ho fatto dei tentativi con vari istituti della Dante Alighieri e non vi sto a dire dal segretario generale in giù un deserto praticamente assoluto allora ci siamo detti visto che non riusciamo a darli neanche gratis vediamo di entrare su iTunes iTunes è il più grande negozio a livello mondiale per quanto riguarda anche ma non solo l'audiovisivo si parla di oltre un miliardo di visitatori quasi ogni giorno e quindi una vetrina incredibile e qui torniamo al problema cos'è internet che crea un'illusione di poter raggiungere il globo terraqueo in maniera facile non è così o meno non è così come si pensa perché iTunes è il simbolo di che cos'è davvero internet per certi versi iTunes è una emanazione della Apple quindi uno dei più grossi protagonisti della rivoluzione internet computer e quant'altro e iTunes a differenza di altre cose a cui ci è abituato internet io voglio aprire un account su Google mi registro metto la mia password e sono automaticamente dentro Google e lo stesso funziona per qualunque altro social network e anche per molti negozi virtuali iTunes non funziona così iTunes ha una struttura che ricorda il cartello delle sette sorelle del petrolio una volta perché tu per mettere i tuoi contenuti su iTunes non puoi registrarti devi passare da alcune società autorizzate da iTunes e quindi da Apple queste società sono in tutto il mondo 15 4 per l'Asia Pacifico 4 per l'Unione d'America e 7 per l'Europa queste società a loro volta hanno dei diciamo dei fornitori a loro volta per cui per esempio se tu sei italiano nessuna di queste società ha sede in Italia però in Italia ha sede alcune di questi loro diciamo collaboratori per cui io voglio offrire a 2 dollari a 3 dollari a un pubblico immenso il mio documentario su Galileo Galilei per entrare devo essere accettato dal fornitore italiano che deve preparare tutto il materiale passarlo al diciamo referente istituzionale di Apple che a sua volta lo mette in in rete in tutto questo lasci sul campo quasi il 50% per cui se io chiederò 2 dollari per quella visione del documentario dopo 6 mesi a me arriverà un dollaro dice vabbè però uno punta sulle no perché hai dei gosti di ammissione cioè per fare tutto questo tu puoi chiedere ti possono chiedere anche 800 dollari per ogni documentario che metti noi abbiamo un catalogo ormai di quasi 60 documentari vorrebbe dire fare un investimento per noi importantissimo quindi questo vuol dire che anche i TUNX è strutturato per favorire i grossi e penalizzare i piccoli per cui io potrei dire andate su iTunes e vedete i nostri documentari non lo posso dire perché non ho la possibilità non ho la capacità di accesso fisico al più grande come si dice al più grande negozio virtuale che esista sulla terra terzo e ultimo esempio e vado a chiudere il due minuti ancora meno diciamo proviamo a chiedere dei finanziamenti e a produrre dei documentari che facciano insomma possono essere sempre utili per la scuola per la divulgazione vi faccio due esempi velocissimi il il primo non riguarda neanche un finanziamento noi abbiamo prodotto tempo fa un documentario sull'elettrice palatina che è un personaggio semi sconosciuto fuori da Firenze elettrice palatina è questa signora l'ultima dei medici che nel settecento contrastando tutta l'Europa riesce a ottenere che il ducato passa per forza a Iasburgo Lorena ma tutte le opere d'arte rimangono a Firenze quindi la fortuna di Firenze è dovuta a questa donna che da sola ingaggia un braccio di ferro con le corti di mezzo Europa intorno al 1730 1740 Firenze da qualche anno ha giustamente deciso di dedicare a questa donna straordinaria la festa cittadina il 18 di febbraio di tutti gli anni anniversario della morte dell'elettrice palatina la città si ferma chiudono le scuole c'è un corteo si vanno deposte dei fiori alla sua statua vicino alle cappelle me dice e quindi diciamo detti ma al mondo esiste un documentario solo sull'elettrice palatina perché non facciamo un'operazione con le scuole e facciamo conoscere meglio questo personaggio con un documentario il documentario già c'è io ho scritto al sindaco al vice sindaco all'assessore alla cultura abbiamo scritto ai responsabili della società che gestisce tutte le iniziative culturali su Firenze una società del comune sapete quanti ci hanno risposto? zero io non ho mai chiesto un centesimo cioè noi lo diamo gratuitamente per noi è un fatto sia di immagine che di coronamento effettivamente di un personaggio il documentario è lì non abbiamo mai avuto risposta e sono tre anni che noi cerchiamo di dire a Firenze il giorno in cui festeggiate il personaggio che noi abbiamo nel documentario se volete il documentario è a disposizione chiudo con un altro episodio solo perché siamo in Toscana ma non perché siamo in Toscana ma perché riguarda un personaggio a me carissimo che è Cosimo Primo De Medici anni fa d'accordo con la sette che era disposta a mandarlo in onda partecipiamo per due volte a un bando per il finanziamento di audiovisivi storico-culturali della regione Toscana presentiamo un documentario il progetto di un documentario su Cosimo Primo De Medici come padre diciamo della Toscana anche geograficamente così come delineata tutt'oggi anche perché il documentario il bando riguardava esattamente la promozione storico-culturale della cultura e della storia della Toscana quindi a nostro giudizio Cosimo Primo De Medici ci stava tutto anche perché non c'era niente su di lui siamo arrivati il primo anno undicesimi venivano finanziati i primi dieci progetti noi siamo arrivati undicesimi il primo anno e quattordicesimi il secondo anno quando abbiamo fatto notare modestamente che siamo arrivati undicesimi ma il nostro punteggio per quelle assurdità di cui siamo capaci solo qui in Italia noi siamo arrivati in realtà ottavi perché il nostro punteggio totale il nostro punteggio totale era superiore a quello del nono e quello del decimo solo che una voce che guarda caso era quella più discrezionale valore generale del progetto insomma una cosa del genere hanno dato zero punti e quello ha fatto nell'equilibrio generale ha fatto diciamo optare chi è andato avanti prima di noi un fondamentale documentario che era già stato finanziato dai beni culturali era già stato prodotto quindi insomma una forzatura che si intitolava Eat the Road Nonna ed era un documentario che un nipote ha dedicato giustamente a sua nonna che era una signora che a un certo punto partì da Firenze era andata in America a Los Angeles aveva aperto alcuni negozi di abbigliamento in uno di questi negozi era stata girata una scena di Gigolo di Richard Gere e questo è stato giustamente considerato non dico di Pretty Woman Pretty Woman giusto scusa Pretty Woman questo è il motivo per cui siete scesi in classifica e siamo scesi in classifica ecco non è tornata non è tornata vi lascio dicendo che l'anno precedente questo bando era stato vinto da un bellissimo documentario che raccontava la storia della di una signora tedesca che dirige o dirigeva all'epoca la l'orchestra di Prato questo è quindi dato questi questi elementi vi lascio immaginare che cosa voglia dire fare divulgazione storica in Italia e quali speranze ci siano poi di cambiare anche minimamente il senso delle cose e qui vi lascio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti